Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Ambra e come ogni mercoledì mi siedo con voi a raccontarvi un caso di cronaca nera che mi ha inquietata o sconvolta. E per il caso di oggi, è proprio il caso di dirlo, questo caso io lo conoscevo a grandi linee ma perché ormai penso che lo conoscano veramente tutti. È un caso italiano, però quando sono andata a fare lo script per questo video, leggendo i particolari di questa storia, considerando che è successo quando io non ero neanche nata, quindi non ho seguito in diretta tutta la vicenda come invece per esempio ha fatto mia mamma, mia nonna, mio papà. Erano piccoli però lo hanno fatto perché è uno dei casi che ha veramente tenuto l'Italia incollata alla tv per tre giorni e forse avete già capito di chi stiamo parlando. Insomma, io quando ho letto questa storia ho pianto per praticamente una settimana intera. Non paga, poi dopo aver fatto lo script di questo video ho guardato anche una serie tv su questo caso che vi consiglio e stiamo parlando della tragedia di Vermicino, ovvero di Alfredino. La serie tv si chiama Alfredino, una storia italiana. Non mi ricordo se è stata prodotta da Sky o da Rai, comunque sia cercatela se vi è possibile perché è veramente fatta molto bene e anche se purtroppo si sa come va a finire vi tiene veramente molto incollati lì, praticamente come quando è successo davvero purtroppo. Allora, come vi dicevo parliamo della storia di Alfredino. Non è un caso true crime ma purtroppo è cronaca nera, molto nera e io non so, tutti questi casi mi segnano ma quando si tratta di bambini ancora di più e sarà che io con i bambini ci lavoro quindi ci sono sempre in mezzo ma quando si tratta di bambini vengo toccata tantissimo e penso come la maggior parte di noi poi. Detto questo andiamo a vedere per chi non conoscesse questa storia o per chi volesse riviverla insieme a me adesso che cosa è successo. Allora, nel caso di oggi ci troviamo a Frascati, precisamente località Selvotta, sulla via di Vermicino nel giugno del 1981. La famiglia Rampi, composta da Ferdinando, il papà, Franca, la mamma, i due figli Alfredo, detto Alfredino e Riccardo di 6 e 2 anni e la nonna paterna di nome Veja, spero di averlo detto correttamente perché non ne sono sicura decide di trascorrere un periodo nella loro seconda casa, quindi di fare un po' di vacanza e appunto si trasferiscono nella loro seconda casa a Vermicino appunto. La sera del 10 di giugno quindi Ferdinando esce a fare una passeggiata con un paio di amici e decide di portare con sé anche Alfredino per farlo uscire e fargli prendere un po' d'aria. Verso le 19.30 decidono di rincasare e a quel punto Alfredino chiede se passando per i prati può tornare a casa da solo perché insomma si sentiva grande, conosceva comunque la zona quindi il padre gli dice che sì, l'importante è che fosse passato per i prati senza andare sulla strada e che poteva rientrare a casa da solo ma di andare diretto a casa, di non fare altri giri che lui sarebbe arrivato dopo poco. Alfredino quindi acconsente e si avvia verso casa. Verso le 20.00 rientra anche Ferdinando e scopre che però il bambino non è mai arrivato a casa e non si è presentato neanche dai vicini o comunque che nessuno l'ha visto. Alle 21.30 circa quindi la famiglia dopo aver cercato il bambino nei dintorni decide di avvertire le forze dell'ordine e di cercarlo tutti insieme. E se da una parte è vero che le forze dell'ordine arrivarono subito, infatti sul luogo si presentarono immediatamente pompieri e vigili urbani è anche vero che arrivarono tutti sprovvisti di torce senza i cani da ricerca che comunque vennero fatti arrivare dal paese vicino e quindi insomma ci misero un bel po' ad arrivare e quindi si perse tempo, tanto tempo perché appunto alle 21.30 del 10 di giugno ok che viene buio più tardi però se devi cercare una persona scomparsa, soprattutto un bambino, una torcia è il minimo. E quindi insomma, niente, si iniziano le ricerche e non salta fuori nulla, questo bambino non si trova Alfredino sembra sparito e dopo un po' alla nonna, Veja viene in mente che c'è un cantiere in costruzione nella via che potrebbe aver fatto Alfredino per venire a casa nel quale c'è un pozzo artesiano e quindi, tanto ormai si stava cercando dice perché non andiamo a vedere anche lì per non lasciare proprio niente di intentato si recano quindi tutti su questo cantiere dove c'era una casa in costruzione ma questo pozzo che era venuto in mente alla nonna lo trovano ben coperto da una lamiera su cui erano state anche posate delle pietre proprio per non farla muovere quindi sull'attimo pensano che è impossibile che Alfredino sia caduto lì dentro però ha il brigadiere della polizia di stato che si chiamava Giorgio Serranti fortunatamente ha lo scrupolo di controllare di non lasciare assolutamente nulla di non tentato di lasciato al caso quindi sposta queste lamiere mette la testa dentro al pozzo e sente Alfredino non lo vede perché ovviamente è molto buio il pozzo è estremamente stretto perché misurava appena 28 cm di diametro ma era profondo 80 metri però sente Alfredino urlare indagando più a fondo infatti si scoprirà che quel pozzo si era stato coperto ma solo alle 21 dal proprietario del terreno che si chiamava Amedeo Pisegna che faceva l'insegnante aveva 44 anni ed era appunto il proprietario del terreno e stava costruendo l'abitazione lì era passato e aveva coperto il pozzo non è chiaro se si fosse accorto che il bambino fosse già caduto dentro spererei vivamente di no perché quantomeno chiamare i soccorsi sarebbe stato il minimo ma per l'appunto era stato coperto da lui solo dopo che Alfredino ci era caduto dentro circa alle 21 di quella sera una volta scoperto dove era Alfredino quindi iniziano a dare via le operazioni di soccorso calando una torcia all'interno del cunicolo scoprono infatti che il bambino fortunatamente non era arrivato ad 80 metri di profondità quindi non era arrivato alla fine del pozzo perché questo pozzo era stato scavato in maniera molto irregolare quindi all'interno presentava tante rientranze le sporgenze sulle pareti erano molto irregolari e per l'appunto presentando un'apertura così piccola per un bambino era stato facile caderci dentro ma poi si era arrestato su una curvatura che faceva questo pozzo quindi si trovava solo a 34-35 metri di profondità rispetto agli 80 appunto totali della profondità del pozzo qui però sorgeva un altro problema ovvero sì ok come si fa a tirarlo su? perché questo pozzo era tanto stretto abbiamo detto ed essendo così irregolare anche per una persona era difficile scendere i pompieri quindi decidono a questo punto di calare all'interno del tunnel una tavoletta di legno legata con delle corde di canapone questo perché perché sembrava un'impresa impossibile calarci dentro di proposito una persona adulta per andare a tentare di prendere questo bambino quindi pensano di calare questa tavoletta in modo che Alfredino avrebbe potuto aggrapparsi e poi piano piano tirarlo su in modo che sarebbe potuto uscire ma arrivata alla profondità di 24 metri questa tavoletta a causa delle pareti così tanto irregolari del pozzo si incastra e quando tentano di tirarla su con l'argano facendo un pochino di forza le corde si spezzano quindi non solo non riescono nell'impresa ma questa tavoletta andrà a dostruire ulteriormente il passaggio e qui mio pensiero personale è forse forse non vorrei dire cioè a me piacerebbe che la storia finisse qui e ok abbiamo calato la tavoletta nel pozzo ha funzionato abbiamo tirato fuori il bambino ed essero tutti felici e contenti ma visto che le corde si sono spezzate non appena la tavoletta si è incastrata e facendo un minimo di forza ok che un bambino di 6 anni non pesera tantissimo ma se c'era anche lui appeso a queste corde magari rischiava di cadere ancora più giù però non è successo quindi è solo un'ipotesi la mia e vi ripeto mi sarebbe piaciuto che la storia finisse qui tirandolo fuori e vissero tutti felici e contenti ma no questa tavoletta si incastra le corde si spezzano e va a dostruire ulteriormente il passaggio nel tunnel a luna di notte per comunicare con Alfredino e fargli sentire la voce dei genitori insomma per rassicurarlo i tecnici della RAI che erano stati avvertiti calano all'interno del tunnel un'elettrosonda a filo in modo che il bambino possa appunto parlare con l'esterno e tramite collegamento in cuffia riesce a parlare con la mamma col papà e anche con i soccorritori risponde lucidamente a tutte le domande che gli vengono rivolte ovviamente è agitato perché è spaventato però dice di stare bene che non non si era fatto tanto male e insomma riesce comunque a comunicare in modo chiaro e lucido alle due Lanza darà la prima notizia tramite radio e televisione ma complice il fatto che è notte e che sembrava una cosa destinata a risolversi ancora abbastanza velocemente passa praticamente inosservata non non viene calcolata più di tanto vista vista la conformazione del tunnel in cui era accaduto Alfredino per l'appunto sembrava impossibile poterlo tirare fuori in quel modo quindi i pompieri cosa decidono di fare di scavare un tunnel in parallelo rispetto a dove era accaduto Alfredino praticamente qui era accaduto Alfredino qui volevano scavare un altro tunnel e arrivati alla più o meno alla profondità anche un po' più giù rispetto a dove era Alfredino scavare un tunnel parallelo arrivarci da sotto e tirare ancora più giù il bambino ma portarlo nel tunnel nuovo più largo in modo che potessero risalire in due sulla carta poteva funzionare però era un'operazione che richiedeva tanto tempo e tante risorse ovviamente a ricercare queste risorse sarà il comandante Elveno Pastorelli dei vigili del fuoco che inizia a telefonare a tutte le aziende di mezzi scavatori presenti sul territorio e tramite appello televisivo ne trovano una che alle 6 inizia ad impiantare le prime apparecchiature grazie a tutti questi appelli fatti in tv alle radio cercando questi mezzi per salvare appunto questo bambino che era caduto la notizia arrivò anche ai giornalisti che alcuni non tutti però soprattutto giornalisti si recarono sul luogo e iniziarono a trasmettere in diretta perché pensavano comunque che fosse una cosa abbastanza veloce alle 4 del mattino sempre grazie a questi appelli erano arrivati anche sul posto tantissimi volontari alcuni anche di corporatura molto minuta che volevano provare intanto che cercavano i mezzi appunto per scavare questo nuovo tunnel di calarsi nel pozzo primario dove era caduto Alfredino e di tirarlo su anche se appunto l'impresa sembrava assolutamente impossibile tanto che i vigili del fuoco si dicono contrari a questa cosa però un po' i genitori di Alfredino che se da una parte non volevano mettere a rischio la vita di altre persone dall'altra volevano riabbracciare il loro figlio giustamente quindi mettendosi tutti un po' d'accordo si decide di calare nel tunnel alcuni volontari tra i quali infatti inizieranno loro a scendere perché erano un po' più esperti nel caso diciamo degli speleologi abituati a inserirsi in dei cunicoli molto stretti quindi vogliono andare giù loro per primi per vedere se riescono intanto a togliere la tavoletta che si era incastrata in modo da liberare il passaggio aria luce insomma per fare passare molta più roba facilmente e poi se riuscivano ad afferrare il bambino il primo a voler scendere nel tunnel fu proprio il capitano della squadra degli speleologi Tullio Bernabei giovane perché aveva tra i 20 e i 25 anni non mi è chiaro comunque era veramente molto giovane e voleva per l'appunto rimuovere almeno la tavoletta inizialmente poi ricalarsi e prendere Alfredino ma purtroppo a causa dell'irregolarità di questo tunnel che comunque presentava molte sporgenze anche all'interno e la roccia viva taglia arrivò solo a circa 22 metri di profondità quindi a un paio di metri dalla tavoletta senza neanche riuscire a toccarla ma quando lo tirarono fuori riferì di essere riuscito a parlare con Alfredino e di averlo visto e che il bambino insomma stava discretamente bene scesero anche due suoi colleghi di nome Maurizio Monteleone e Fabio Pironi però purtroppo ottennero lo stesso risultato quindi il comandante Pastorelli a questo punto vieterà altre discese perché si rischiava veramente di farsi molto male e inizieranno a pompare ossigeno all'interno del tunnel per evitare la sfissia di Alfredino e nello stesso tempo viene dato il via per iniziare gli scavi il problema però qual era? è che in quella zona il terreno sotto il primo strato è composto da roccia labica che risulta molto difficile da scavare perché è veramente tanto dura quindi i geologi e gli speneologi consigliano di intanto che si scavava quindi parallelamente agli scavi continuare a tentare di scendere in modo da cercare insomma sempre di tirar fuori prima la tavoletta e poi Alfredino ma il comandante Pastorelli assolutamente vieta altre discese e vuole solo continuare a scavare come previsto dopo i primi due metri di scavo eseguiti in circa due ore quindi anche abbastanza velocemente la trivella incontra uno strato di roccia granitica e quindi rallenta di tantissimo il lavoro di scavo e di conseguenza i genitori vengono mandati a casa a riposare e la comunicazione con Alfredino viene passata a uno dei vigili del fuoco Alfredino in tutto questo continua a essere lucido alterna momenti di veglia a momenti di sonno quando non stavano scavando quindi c'era un pochino più di silenzio perché ovviamente con uno scavatore di fianco il rumore era veramente tanto e dice di volere bere e che è spaventato da questo rumore allora questo vigile del fuoco per tentare di rassicurarlo e di infondergli un pochino più di tranquillità gli dice che stava arrivando Mazinga a salvarlo ed è per questo che faceva così tanto rumore Alfredino era un grandissimo fan di Mazinga Z che in quegli anni penso tutti fossero fan una di Mazinga Z e Girobo insomma e quindi gli viene raccontato questo che fatica ragazzi ho preso un attimo perché come vi dicevo questa storia mi commuove molto più del solito e quindi ho avuto bisogno di un attimino allora dicevamo la perforatrice si è interrotta a causa di questa roccia granitica quindi alle 13 viene richiesta un'altra perforatrice più grande più potente e viene fatta arrivare sul luogo il comandante Pastorelli sempre lui dichiarerà che a questo punto gli scavi sarebbero ripresi prestissimo e che sarebbe stata questione di pochissime ore per tirar fuori il bambino quindi i giornalisti della RAI che erano ancora lì sul luogo ma stavano trasmettendo durante i TG quindi non in modo costante sentendo che ormai sarebbe stata questione di poco e Alfredino sarebbe uscito iniziano a trasmettere in diretta per non perdersi assolutamente l'uscita del bambino dal pozzo quindi la RAI inizierà a trasmettere a reti unificate la storia di questo bambino e questo cantiere dove stavano scavando questo tunnel verrà trasmesso per praticamente due giorni di fila il problema di questa cosa qual è stata? che trasmettendo a reti unificate e in diretta costante circa 10.000 persone si sono recate sul posto che non era stato transennato perché per far passare i mezzi di soccorso le trivelle vigili del fuoco poliziotti che comunque si davano il cambio costantemente perché nel frattempo erano già passate più di 24 ore non non avevano transennato quindi sono arrivate tutte queste persone sono arrivati chioschi di cibo bevande c'è stata un po' di confusione bisogna dire comunque alle 16 dello stesso giorno entra in funzione la seconda trivella che inizia a scavare in profondità e arriva a una profondità di 20 metri di profondità per 50 cm di diametro quindi un po' più grande rispetto al pozzo originale che ne misurava appena 28 i tecnici però vedendo gli strati del terreno come erano composti ipotizzano almeno altre 8 ma anche 12 ore di lavoro quindi si decide di far arrivare sul posto il primario di rianimazione dell'ospedale San Giovanni questo perché Alfredino soffriva di una cardiopatia congenita e a settembre dello stesso anno avrebbe dovuto essere operato di questa malattia quindi avevano deciso i genitori di fargli fare questo intervento al cuore perché tra il rischio di non operarlo e le possibilità di riuscita dell'intervento avevano valutato di farlo operare a causa di questa malattia Alfredino non si doveva agitare non doveva piangere molto perché il cuore sarebbe andato in sofferenza e quindi insomma era la situazione più sbagliata in cui trovarsi in quel momento eppure il bimbo continua a sopravvivere gli viene calato all'interno del tunnel una flebo di acqua e zucchero in modo che lui potesse bere potesse reidratarsi e prendere anche un pochino di sostanze perché insomma non stava mangiando comunque nulla e rischiava di indebolirsi molto alle 18.30 si era purtroppo conquistato solo un altro metro di perforazione e verso le 23 arrivò sul luogo un altro volontario di 52 anni che da tutti fu rinominato l'uomo ragno perché tentò anche lui con un'agilità estrema di calarsi nel tunnel sempre quello originale ovviamente perché quell'altro non era pronto ancora ma purtroppo anche lui non riuscì ad arrivare ad Alfredino alle 7.30 del 12 giugno 7.30 del mattino ovviamente si riescono a raggiungere i 25 metri di profondità di scavo Alfredino a questo punto scoppia a piangere per la prima volta dice che è stanco che vuole andare a casa e che lui non ne può più di stare lì dentro lui vuole uscire i genitori riescono in qualche modo a calmarlo e attorno alle 10 del mattino si riesce ad arrivare a 30 metri di profondità perché questa scavatrice più potente era riuscita a scavare molto più velocemente nel terreno che era tornato morbido quindi arrivati a 30 metri si prosegue ancora fino a 32 metri e mezzo ma poi si decide di interrompere a quel punto gli scavi e iniziare a scavare il tunnel trasversale per scavare questo tunnel siccome quest'altro tunnel che avevano costruito inizialmente doveva essere a un metro di distanza da quello originale ma poi con i geologi si sono messi d'accordo per scavarlo a 2 metri perché a un metro con le vibrazioni già anche a 2 metri era abbastanza poco però dovendo poi scavare quello trasversale che andava nel tunnel originale non potevano scavarlo troppo distante perché se no si sarebbe perso tantissimo tempo ma a un metro si sarebbe potuto con le vibrazioni far collassare su se stesso il tunnel originale essendo scavato solamente nella roccia cioè non aveva pareti la parete era la roccia viva quindi se fosse collassato su se stesso il bambino si sarebbe ritrovato sepolto nelle macerie e non ci sarebbe stata più possibilità di tirarlo fuori quindi questo pozzer è stato scavato a 2 metri di distanza e a questo punto scenderanno 3 vigili del fuoco a scavare a mano questo tunnel trasversale proprio per collegare i due tunnel ci riescono ma quando ci riescono si sono fatte ormai le 19 quindi è passata praticamente un'altra giornata a questo punto i soccorritori riferiscono che Alfredino non risponde più e che il suo respiro purtroppo sta rallentando i due tunnel quindi vengono collegati appunto alle 19 di sera e a 34 metri di profondità ma quando li collegano Alfredino praticamente doveva essere lì cioè loro sapevano che più o meno si trovava 34 35 metri quindi massimo 36 doveva essere lì doveva essere a un paio di metri con una torcia lo dovevano vedere e invece a questo punto Alfredino non si trova Alfredino non è più lì perché questo? perché a causa delle vibrazioni era scivolato ancora più in basso con tutte le vibrazioni dello scavo posto così vicino al tunnel Alfredino era scivolato di altri 30 metri quasi era a quasi 60 metri di profondità a questo punto verrà riconvocato Tullio Bernabèi il capitano degli speleologi per calarsi nel nuovo tunnel che risultava essere molto meno pericoloso rispetto al primo e tramite il tunnel di collegamento verificare dove fosse Alfredino perché ancora non si sapeva a che profondità fosse sceso quindi Tullio si calerà giù calerà anche una torcia di nuovo e verificherà che Alfredino è precipitato di un'altra trentina di metri tenterà l'impresa di salvataggio allora Claudio Aprile un altro speleologo che non mi è chiaro se faceva parte sempre della squadra di Tullio o se si trovava lì perché aveva saputo della notizia appunto come vi dicevo a questo punto la Rai trasmette in diretta reti unificate tutta l'Italia è davanti alla tv quindi era facile che chi si trovasse in zona per l'appunto 10.000 persone si erano presentate sul luogo anche lui quindi tenta di scendere ma per lui l'apertura di comunicazione tra i due tunnel si rivela troppo stretta e quindi non riuscirà a a passare a questo punto ricominciano tutta una serie di volontari a scendere dal nuovo tunnel percorrere quello di comunicazione e tentare ancora di più di scendere a prendere Alfredino però c'è un piccolo problema ovvero si può stare a testa in giù solo per 15 minuti perché dopo praticamente il sangue va troppo alla testa fa scoppiare i capillari viene a mancare l'equilibrio insomma diventa veramente molto pericoloso massimo massimo proprio consentito 25 minuti ma per arrivare a 60 metri di profondità ok che nel tunnel nuovo la discesa si è fatta più veloce perché essendo più largo è molto più controllata la situazione diciamo che riescono a scendere più in fretta ma poi da lì devono fare il tunnel di collegamento e scendere nel nuovo tunnel che ancora nessuno è arrivato a vedere veramente come diventa il pozzo originario visto che Alfredino è precipitato ancora diventa un po' lunga la questione quindi di tutti questi volontari nessuno più riesce ad arrivare ad Alfredino fino a che non ci prova Angelo Liccheri nome nomen Angelo di nome e di fatto secondo me perché Angelo si cala nel tunnel Angelo era piccolino di statura era di origini sarde ed era molto 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 magro quindi si è fatto calare nel tunnel originario ha percorso il tunnel di collegamento e da lì si è fatto calare a testa in giù nel tunnel nel primo tunnel che succede? che prima di scendere si è tolto tutti i vestiti rimanendo vabbè con la maglietta intima e i boxer solo perché non voleva fare attrito sulle pareti non voleva impigliarsi con niente voleva proprio scendere il più direttamente possibile quindi non voleva avere niente che potesse urtare contro le rocce quindi si spoglia si fa calare si fa mettere a testa in giù e inizia a farsi calare nel tunnel primario cosa succede che però come tutti gli altri incontra degli ostacoli e lui pur di arrivare ad Alfredino si faceva tirare su per un paio di metri poi faceva mollare le corde di botto e sfondava con il peso corporeo tutti gli ostacoli che lui trovava con le mani davanti al viso proprio arrivava e sfondava la roccia viva tanto che Angelo riesce ad arrivare ad Alfredino Angelo riesce a toccarlo a scostargli le mani perché praticamente Alfredino era finito in una posizione in cui aveva le ginocchia attaccate al petto e le braccia incastrate dietro la schiena quindi una posizione assurda cioè poverino questo bambino veramente mi mi fa male il cuore a pensarci davvero quindi Angelo arriva da lui riesce a trovare più o meno una posizione dove scastrargli le braccia gli toglie il fango dal viso e dagli occhi ma Alfredino a questo punto non risponde più ha il respiro che sembra un rantolo e dà segno di sentire cosa gli dice Angelo ma non gli risponde Angelo allora tenta in tutti i modi di tirarlo su prima imbragandolo ma a causa della posizione sfavorevole di Angelo innanzitutto che era a testa in giù e del bambino le cinghie continuamente si aprono e quindi Angelo prova allora di non imbragarlo ma di tirarlo per le braccia tanto che poverino gli romperà anche un polso in tutto questo tirare e muoverlo insomma per cercare di tirarlo fuori da lì ma non ci sarà niente da fare Angelo non riuscirà a tirare fuori Alfredino però intanto cosa è successo che innanzitutto ha liberato il tunnel da tanti ostacoli che c'erano perché sfondandoli è riuscito a renderlo un pochettino più regolare e poi ha reso possibile arrivare al bambino quindi passati 45 minuti a testa in giù la squadra decide che è ora di tirarlo su e pazienza se non è ancora riuscito a prendere il bambino ci proverà qualcun altro perché era già trascorso ampiamente il tempo massimo in cui lui poteva stare a testa in giù e anche se lui insisteva che lo voleva tirare fuori a tutti i costi di stare bene e di voler tirar fuori Alfredino con lui lo rialzano lo tirano fuori e Angelo Liccheri uscirà dal tunnel coperto di fango di sangue perché ovviamente la roccia viva l'aveva tagliato e lui era senza vestiti quindi era proprio a pelle nuda e verrà trasportato in ospedale dove rimarrà qualche settimana purtroppo perché a causa delle ferite e questo stare tanto a testa in giù è dovuto stare ricoverato qualche settimana Angelo dirà poi che sì Alfredino non gli rispondeva più ma era ancora semicosciente e che lui prima che lo tirassero su quando ha visto che non riusciva ad afferrarlo gli ha mandato un bacio e ha consentito a farsi tirare fuori Angelo Liccheri quando è uscito dall'ospedale non è più riuscito a stare in Italia e si è trasferito in Africa fino al 2005 le cicatrici di questa vicenda dentro e fuori se le ha portate per tutta la vita Angelo morirà poi nel 2021 non è chiaro il perché se è di vecchiaia o di malattia ma purtroppo non c'è più alle 5 del mattino del 13 giugno un altro speleologo tenta di calarsi nel nel pozzo e anche lui arriverà ad Alfredino questo speleologo di 22 anni si chiama Donato Caruso anche lui tenta di legare Alfredino lui aveva portato giù delle corde perché aveva visto che le imbragature non riuscivano comunque a stare allacciate quindi tenta di legarlo con delle corde con dei nodi ma il cappio che aveva fatto al primo strattone si scioglie anche a causa del fango che ricopriva comunque il bambino perché era tutto piuttosto umido e scivoloso tenta allora con un altro metodo che sinceramente non ho capito ma ho letto che è il più pericoloso come metodo per di salvataggio in questi casi con delle manette di legare sia il bambino sia la sua imbragatura cioè di legare non ho ripeto non ho capito come però con queste manette praticamente ammanetta sia il bambino che la sua imbragatura ma anche questo metodo purtroppo non funziona e anche lui dopo un po' si fa tirare su perché non vede altre soluzioni purtroppo quando Donato esce dal tunnel darà anche la notizia che Alfredino non dà più segni di vita Franca allora la mamma di Alfredino tenterà di urlare tantissime volte nel tunnel il suo nome ma Alfredino non le risponderà mai e i medici a questo punto decidono di calare uno stetoscopio per percepire il battito cardiaco del bambino ma non viene rilevato nulla i tecnici Rai allora a questo punto mandano si sono fatte più o meno le 16 del pomeriggio tentano di calare una piccola telecamera per inquadrare il bambino e vedere se respirava ma a questo punto ne verrà dichiarata la morte perché anche da lì non verranno percepiti segni di vita né di respirazione né di movimento che fatica ragazzi questo caso ve l'ho già detto ma mamma mia scusate le interruzioni ma ogni tanto devo prendermi un attimo allora a questo punto viene fatta una dichiarazione di morte presunta e nel tunnel viene iniettato dell'azoto liquido a meno 200 gradi per la conservazione del corpo perché ovviamente a questo punto purtroppo era inutile tentare di tirarlo fuori facendo purtroppo rischiando di far male ad altra gente o non dico rischiare la vita perché con il nuovo tunnel bene o male era meno pericolosa la situazione però era inutile secondo i soccorritori e purtroppo mi dico d'accordo tentare di investire in tante risorse per tirarlo fuori per forza in quel momento quindi viene iniettato questo azoto per la conservazione del corpo e Alfredino verrà recuperato da tre squadre di minatori l'11 luglio seguente quindi quasi un mese dopo 28 giorni dopo perché è stato dichiarato morto il 13 di giugno i funerali di Alfredino si svolgeranno il 15 giugno dello stesso anno e la bara verrà trasportata da alcuni dei volontari che si sono calati nel tunnel tra i quali Angelo Liccheri e Donato Caruso scusate mi stavo dimenticando il nome la storia di Alfredino finisce qui ma Amedeo Pisegna il proprietario del terreno dove è stato costruito questo tunnel questo pozzo scusate fra l'altro è costruito in modo abbastanza abusivo verrà arrestato con l'accusa di omicidio colposo aggravato aggravato dalla mancanza delle norme di sicurezza perché questo tunnel non si vedeva minimamente nel terreno e è stato coperto solo dopo che Alfredino c'era caduto dentro non prima perché se fosse stato coperto prima questa storia non sarebbe mai successa in seguito verrà poi prosciolto perché sì ok il pozzo era stato costruito abusivamente però in quel terreno ci stavano comunque lavorando quindi sì nessuno si è accorto che Alfredino è caduto dentro però quando hanno finito di lavorare comunque l'hanno coperto diciamo che insomma c'è stato un po' un cavillo e Amedeo Pisegna verrà appunto prosciolto Elveno Pastorelli sull'attimo venne accusato di aver coordinato male i lavori ma poi in seguito verrà scagionato totalmente in istruttoria perché è vero che i lavori li ha coordinati lui ma nel farlo si è assunto una responsabilità che sembrava non competere a nessuno in quel momento e quindi anche in quanto comandante dei vigili del fuoco se l'è presa lui la responsabilità ma era anche una situazione in cui purtroppo come la fai da sbagli nel senso che lui ha fatto quello che ha ritenuto più giusto l'idea del tunnel poteva essere buona forse come era altrettanto buona l'idea degli speleologi di calarsi e tentare di prendere Alfredino anche se poi nessuno ci è riuscito così come scavando quest'altro tunnel con la vibrazione Alfredino è caduto più in basso però purtroppo la vera domanda è sì ok ma che cosa poteva fare realmente concretamente secondo me quello con i mezzi dell'epoca quello che hanno potuto fare l'hanno fatto purtroppo è andata male questo sì però d'altra parte secondo me non c'era tante più cose da fare a questo punto una cosa che non vi ho detto fino ad ora ma che è successa e secondo me vale la pena di dirla è che sul luogo di questo incidente perché non si può parlare di delitto si parla di incidente purtroppo arrivò anche Sandro Pertini il 12 di giugno ma non volendo stare in mezzo perché pensava di catturare troppo l'attenzione dei media che invece dovevano rimanere concentrati sulla vicenda si rintanò diciamo in una stradina vicino a a questo cantiere in mezzo alla campagna e a questo punto vorrei leggervi le parole testuali di mamma Franca che ha lasciato in un'intervista che io ho trovato e ne ho tirato giù solo un pezzettino perché altrimenti già questo video è durato tanto ma andava andava fatto così secondo me cioè Alfredino è una storia italiana che secondo me è rimasto nel cuore di tutti e gli andava resa un po' di giustizia quindi vi leggo le testuali parole di mamma Franca che ha detto anni dopo questa tragedia e ha detto il presidente della repubblica Sandro Pertini era arrivato sul luogo senza avvertire le autorità presenti e mi dissero che era ancora lì vicino in un viottolo di campagna nascosto perché non voleva farsi vedere dai media e non voleva essere d'intralcio con la sua presenza sperando di ricevere le buone notizie decisi di andare a parlare con lui perché avevo visto troppe cose assurde in quegli giorni volevo raccontargli tutto da quando mio figlio si era perso al momento della sua morte e così feci raccontai della polizia della tavoletta della trivella eccetera lui mi rispose signora sono sconcertato non so che dirle non ho parole sono costernato e dispiaciuto possibile che ci sia stata tutta questa confusione possibile che niente abbia funzionato veramente non sapeva che dire rimase senza parole dopo alcuni mesi ricevetti una sua telefonata e mi disse che per me aveva creato un ministero quello della protezione civile istituito poco dopo con decreto legge numero 57 del 27 febbraio 1982 e convertito in legge 187 nello stesso anno quindi questa storia purtroppo è finita male per questa famiglia perché appunto hanno perso un figlio anzi in realtà ne hanno persi due perché mamma Franca è ancora al mondo non ho trovato niente e onestamente non ho neanche cercato tanto su papà Ferdinando ma so che il fratello Riccardo è venuto a mancare all'età di 36 anni per un infarto ed è sepolto insieme ad Alfredino la loro tomba è stata da poco vandalizzata ma è già stata sistemata anche lì mai capirò cosa porta la gente a vandalizzare delle tombe ma grazie a questa storia che è una storia tristissima e tragica è nata la protezione civile di stato quindi mamma Franca è anche un po' mamma della protezione civile e hanno istituito a Roma non so se ci sono altre sedi io ho trovato per certa quella di Roma la fondazione Alfredo Rampi dove la protezione civile va a fare costantemente esercitazioni e fanno vari congressi e riunioni la potete trovare su Instagram magari nell'infobox vi lascio il nome proprio dell'account se lo volete seguire detto questo oggi ho parlato più del solito ma come vi dicevo secondo me questo caso andava assolutamente raccontato ed essendoci tante cose da dire andava fatto così io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi se vi è piaciuto di stare in mia compagnia iscrivetevi al canale fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso se voi c'eravate se avete visto la vicenda in televisione se avete seguito anche voi tutta questa tragedia perché è stata una tragedia e detto questo noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video a presto